È un approccio diretto quello che la Polizia ha con i cittadini, voluto dal questore di Catania Marcello Cardona, che ha fatto il punto sull'attività svolta nell'anno che si è da poco concluso. Il 2015 è stato l'anno in cui la Polizia ha incrementato la presenza di pattuglie in strada, degli sbarchi di migranti, delle nuove regole in materia di antiterrorismo, dell'azione incisiva della Polizia di frontiera all'aeroporto Fontana Rossa, dell'aggressione al patrimonio dei mafiosi. Prezioso il lavoro svolto dalla Digo è stata tutela dell'ordine pubblico durante le manifestazioni sindacali, i cortei studenteschi, gli eventi sportivi. Di rilevanza nazionale l'indagine sul calcio scommesse, i treni del gol, che ha portato all'arresto dei vertici del calcio Catania.